L'idea è venuta spontanea quando l'anno scorso dovevamo organizzare il concerto di Quando Tutto Divento Blu, che è un fumetto che è diventato un disco, che è diventato uno spettacolo. Siccome dovevamo fare questa data con Vimini e con Amat, ci siamo detti ma perché non le facciamo due e proviamo a vedere e sperimentare un nuovo modo di parlare di fumetti, diverso da quello delle fiere, diverso da quello dei banchetti, diverso da quello dei padiglioni, diverso da quello dei cosplayer. E siccome Pesaro poi è la città della musica, il connubio è diventato subito e immediato. La cosa che mi interessava in questo festival, che è ancora una versione beta perché, devo dire la verità, è anche per me la prima volta come direttore artistico, ci saranno un sacco di ospiti, ci sarà lo spettacolo di Quando Tutto Divento Blu, ci sarà Davide Toffolo che presenta il suo libro nuovo con Rizzoli che si chiama L'ultimo vecchio sulla terra su Remo Remotti, sulle posie di Remo Remotti. Ci sarà Rachele Bastreghi, Ilari Uni, Erskine, abbiamo un altro ospite pesarese che ha fatto il suo primo libro al esordiente che si chiama Guido Brualdi, ci sarà Nova che è un'autrice che ha un'anteprima qua con noi e Gian Joff e tante altre cose divertenti da vedere soltanto seduti con i popcorn come se fosse al cinema. Ci piaceva, essendo Pesaro, grazie a numerosi artisti e anche un po' una crocevia nazionale, internazionale di artisti e di creatività rivolta al fumetto, fissare questa attività anche con un festival. Allora, ragionando con Alessandro Baronciani, che non è l'unico ma sicuramente uno dei più rappresentativi pesaresi anche sulla scena nazionale, con cui negli anni abbiamo svolto sotto varie forme molti tipi di collaborazioni, ho detto perché non ripartire da un festival, caratterizzarlo appunto sulla musica, a partire dal gioco del fumetto Opera Festival, andando a marcare appunto un settore che è quello del concerto disegnato e del fumetto applicato alla musica e quindi questo diventa per ora una due giorni, una due giorni che si terrà prevalentemente nei teatri appunto perché partiamo dall'idea di concerto ma anche per mettere anche una base per qualcosa anche di più importante che potrebbe diventare un appuntamento annuale. Il venerdì 17 si parte alle 6 ai musei civici con una visita guidata alla mostra di Michael Bardeggia, poi ci sarà lo spettacolo al teatro sperimentale e un dopo festival, come tradizione dei festival ci sarà un dopo festival al Circo del Mengaroni con due presentazioni di fumetti letti dal vivo e sabato ci sarà una gita in tipografia perché è dove nascono i fumetti e la tipografia di Pesaro, la Nuova Montaccini spesso mi ha aiutato anche a me nella realizzazione dei miei libri, poi ci sarà lo spettacolo di Davide Toffolo con in apertura lo spettacolo di Guido Brualdi e ci saranno anche le animazioni dell'associazione Alma Animatori e delle autoproduzioni anche qua alle musei civici nel pomeriggio di sabato.